Vi aspettiamo domenica 8 a Reggio Emilia, lo Stadio Mirabello, non per questa meraviglia, questa non la troverete, ma troverete una cosa ancora più importante. Hashtag tutti in campo, domenica 8 aprile, Stadio Mirabello ore 15, Luca Montersino scenderà in campo insieme a Nausicaa per la partita degli chef, Assetic Chef, contro la Nazionale Comici di Zellig e Colorado. Vi aspettiamo tutti, intanto noi adesso cominciamo a mangiare e facciamo allenamento con gli effetti. Sì, anche perché non vi aspettate nulla di più di questo, perché questo è il mio forte, non di certo il calcio, però ce la mettono tutta a scopo benefico e ben volentieri cercherò di fare del mio meglio. Vi aspettiamo. Ma è Montersino, quindi anche in campo è fantastico. Non credo.